bisogna tagliare l'erba qua diglielo ma scusa papà scusa ma non girava a destra l'altra volta è uguale so può salvare è capito va già con un motore figurati con due questo è quello che doveva partecipare al limbo di bondeno una volta vero papi l'ha usato fabio e l'ha massacrato e poveretto non è ma non tantissimo solo due lì che si è rotto insomma l'ho perso eccolo si vede maial però si sente il ferrarese maial sopra che giri che fai guarda lì manca solo soccia ho già capito che se uno ti prende la mano un giocattolino lo perdo addirittura guarda lì riesce a fare è un tonno papi ha il topo piccolo ma voglio un topo motore anche a questo sole ha preso padronanza ah ma volato addio sto mandando a fare vabbè si sa che ci ha già familiarizzato cos'è il secondo volo di questo modello va bene terzo si vabbè ma è fotonico con le ruote c'è sembra un super leggero se ne ha fatto solo lui le ruote tutti quelli che sta spacciando in giro li da classici si esatto che si tiene l'esclusiva esatto cosa c'entra è una sua ideazione è una sua ideazione è una sua ideazione è bravo però per me la Milena sta pensando un dolchino sopra ci starebbe bene esatto solo che adesso non lo trovo più e la madonna c'è un sole come lo trovi più non lo trovo più col cellulare è difficile sopavanda io ne ho fatti diversi di video con il cellulare è difficile